La città ha bisogno di guardare al futuro e noi che abbiamo cominciato a lavorare sul futuro vogliamo continuare a farlo. Sindaco, dal Porto Vecchio al Porto Nuovo con tutta l'attività portuale che a Trieste è uno dei cardini fondamentali non solo in questi tempi ma anche storico e poi diciamo tutte le attività economiche che girano attorno alla città. Beh, Trieste riparte dal mare, questo è evidente, questo è un filo che unisce portualità, portovecchio, industria, cantieristica, nautica, turismo e così via dicendo. Innanzitutto Porto, sul Porto la svolta c'è stata, l'abbiamo voluta, la mia proposta di Zeno D'Agostino alla guida del Porto è una proposta che ha dimostrato che questa svolta era possibile. Oggi quindi c'è una squadra capace di governare lo scallo. Ecco Sindaco, siamo arrivati davanti al Teatro Verdi, un aspetto, quello della cultura che non va, come dire, dimenticato o messo. Sì, perché al di là del salvataggio del Teatro Verdi, va ricordato che anche Rossetti versava in cattive condizioni e anche Rossetti oggi vive una condizione di serenità e sappiamo quanto sia forte il legame tra il pubblico di Trieste e la prosa, vale per i Rossetti, vale per la contrada. Non dimentichiamo che questo luogo è diventato anche il luogo delle lezioni di storia della Terza, quindi di una straordinaria riflessione che sta appassionando la città. Ecco Sindaco, siamo in Largo Ponfili dove c'è stato un intervento molto importante per riqualificare questa piazza, questa zona. Prima qui c'erano dei posti auto, adesso c'è uno spazio pubblico. Beh, questa è una piazza, adesso possiamo dirlo nel vero senso della parola, che valorizza un luogo bellissimo come la chiesa di Culto Luterano, che completa un intervento che è iniziato dal Ponte Curto e che ha teso a riconnettere perciò questa parte di Borgo Teresiano con il cuore storico della città, che è già oggetto di interventi di ristrutturazione e che è un po' uno dei segni di un'attività che nonostante il patto di stabilità abbiamo svolto e stiamo svolgendo e continueremo a svolgere nell'ambito dei lavori pubblici. Sindaco, un punto di passaggio obbligatorio in questo giro per quest'oggi è il Porto Vecchio. Beh sì, 500 mila metri quadri di waterfront, forse il più importante e affascinante che ci sia in questo momento in Europa. Per troppo tempo separato dalla città da un muro, questo muro è caduto, è stato un gioco di squadra, ha avuto poi un momento sicuramente importante nell'emendamento di Francesco Russo, ma come tutti i risultati è il risultato di un lavoro di squadra, le partite le vincono le squadre, abbiamo lavorato tutti, adesso si tratta di lavorare per creare tutte le condizioni che favoriscano gli investimenti. Grazie.